Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi non parliamo di un film, non parliamo di una serie, ma parliamo di Marvel Spider-Man 2. Ho appena finito la storia principale, l'ho finita sì in un giorno, uno dei motivi naturalmente è proprio questa recensione, e come potete vedere anche questo video sfortunatamente sarà registrato con la webcam del computer, non con la solita cam, quella dei soliti video, perché è sempre lo stesso problema, come nell'ultimo video registrato, è ancora rotta. Lo schermetto è ancora rotto, fa i colori RGB, quindi accontentatevi in qualche modo, io non mi accontenterei mai di questa qualità video. Che non è comunque pessima al 100%, diciamo che qualcosa si può anche salvare, in ogni caso. Da fan di Spider-Man, da fan della Marvel, attendevo tantissimo questo gioco, anche perché sia il primo che Miles Morales mi erano piaciuti tantissimo. Prima di qualche mese fa non avevo neanche la PS5 qui, ok, mi vedo al contrario come sempre, quindi è un po' difficile. E si trova lì in questo momento, soprattutto per questo che vedete qui. È stato esattamente questo il motivo per cui ho fatto l'upgrade di generazione. E posso dire una cosa, nel contesto Marvel Spider-Man 2 ho fatto una delle scelte migliori della mia vita. Questo gioco è allo stesso livello, se non superiore in alcune cose, degli altri due capitoli. Non voglio dire al 100% superiore a Marvel Spider-Man 1, perché secondo me non lo è. Migliore di Miles Morales magari sì, questo potrei anche dirlo, però è sicuramente un giocone. Anche questa recensione, come quella per film e serie tv, sarà divisa in due parti. La parte senza spoiler iniziale e poi la parte con spoiler sul finale. Tranquilli, comunque ci sarà sempre l'avvertimento iniziale, potete tranquillamente stoppare il video. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti. Tra i miei social, il link di Pampling, codice e il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta. In questi giorni c'è tutto il sito almeno 20% di sconto. Per l'offerta di Halloween ho preso qualcosina che arriverà fra qualche giorno, poi lo vedrete su Instagram. Ma a proposito, come ho già detto, i link dei miei social sono in descrizione, tra cui Instagram, TikTok, X e Letterboxd, dove pubblico mini recensioni e robe varie, diari, watchlist e cose riguardanti il mondo del cinema. Oltre a dividere il video in senza spoiler e con spoiler, posso dirvi che mi concentrerò di più sul lato narrativo del gioco, perché intanto non sono un videogiocatore in generale, non gioco tantissimo a console, PC, nemmeno mobile in realtà, neanche meno mobile, e quindi magari di meccaniche, tecnicismi, videoludici non ne saprei tanto parlare, quindi mi concentrerò veramente di più solo sul, non solo, però per lo più sul lato narrativo del gioco. Intanto come in un sequel che si rispetti, si vede che hanno voluto accentuare tutte le cose che sono state apprezzate, che hanno funzionato tantissimo nel primo gioco e anche in Miles Morales. La mappa è più grande, anche per le possibilità che appunto ha la nuova console, nuove meccaniche di combattimento, nuovi gadget, per esempio le ali sotto le ascelle, che erano un tratto tipico del primo Spider-Man fumettistico, e che mi sarebbe piaciuto effettivamente vedere anche nel primo gioco, ma non lo so, magari non era possibile per la velocità del processore, sempre se processore si chiama anche nella Play, non saprei dirlo, e quindi le hanno giunte solamente in questo secondo. In ogni caso è veramente fantastico giocare, svolazzare per New York, cosa che apprezzo da sempre. Anche lo switch tra Miles e Peter funziona molto, vengono utilizzati anche diversi altri personaggi come giocatore, per esempio MJ. MJ ritorna anche in questo sequel, ma secondo me hanno capito qual era il problema del... qual era uno dei problemi, sì, comunque minori del primo gioco, ovvero giocare proprio con un umano. Abbiamo da una parte Spider-Man che può fare di tutto praticamente, e poi riservano minuti e minuti a una furtiva con un semplice umano. Ecco, qui MJ torna di nuovo a essere giocabile, però hanno aggiunto un modo per renderla meno noiosa, possiamo dire così. Poi a livello di personaggio giocabile c'è anche stata una grande sorpresa. Fatto sta che ho apprezzato molto la collaborazione tra i due Spider-Man, mi dispiace effettivamente che non sia un gioco in cooperativa, magari che... magari anche in multiplayer sulla stessa console o online. Non so se in futuro faranno una cosa del genere, ma non credo. In ogni caso sarebbe stato carino presentare una sezione con la possibilità di far interpretare i due Spider-Man a due persone diverse. Prima di giocare al gioco ho sentito solo una critica riguardo Marvel Spider-Man 2 da chi l'aveva già giocato in anteprima, ovvero che era bello denso di personaggi, soprattutto villain, solo per accontentare i fan, e che quindi non dava la possibilità di caratterizzarli al meglio. E in realtà possiamo dire che è effettivamente così, ma non ho... non l'ho visto. Ho voluto forse chiudere un occhio perché non mi ha dato fastidio, assolutamente. Anzi, secondo me alcune caratterizzazioni è bene che siano solo... anticipate così leggermente, un piccolo antipasto per ciò che potrebbe venire in futuro. Poi ne parliamo naturalmente nella parte spoiler. Visto che ho citato i villain, sì, ce ne sono tantissimi, ce ne sono alcuni che tornano dal primo gioco, dal trailer si è visto Mr. Negative, non è uno spoiler quindi. Poi tornano anche altri che hanno fatto solo una comparsata in altri giochi, e naturalmente ci sono i nuovi villain, quindi Kraven, Venom, Mysterio e Sandman. Questi due, anche se Sandman ha una parte un po' più importante, diciamo che sono un po' rilegati a qualcosa di diverso dagli altri due, che sono più centrali, diciamo. Non voglio parlare nello specifico chi dei due villain è quello veramente principale, non voglio naturalmente dire chi si cela dietro la maschera, la faccia in realtà di Venom, perché non è stato ancora svelato. Fatto sta che Venom e Kraven mi sono piaciuti tantissimo. È difficile che vedremo un altro Kraven come questo, sicuramente non nel film del Sony Spider-Man Universe. Questo è una bestia, è cattivissimo, grossissimo, fortissimo. In realtà tutti i villain sono abbastanza forti, sarà che sono io nabbo probabilmente a giocare, ma non parliamo poi dell'ultimo scontro, non dico contro chi. A livello di colpi di scena il gioco trattiene botta, perché nonostante mi fossi spoilerato qualcosa accidentalmente grazie a TikTok, visto che hanno probabilmente hackerato, hanno licato roba varia già settimane fa, sapevo un po' di colpi di scena, però compreso anche la rivelazione di chi sta dietro Venom, che credevo un po' prevedibile e invece non è stato così, ho avuto modo di stupirmi effettivamente con le rivelazioni e i plot twist di questo gioco. Sarà per la grafica magnifica di questo gioco, anche se poi c'è stato qualche glitch e qualche bug, ma ne parliamo fra pochissimo, ma ho come l'impressione che si stiano preparando in qualche modo a Marvel's Wolverine. Il prossimo gioco di Insomniac già rilasciato è che sarà rated R, quindi vietato ai minori, diciamo così, in Italia non so poi come arriverà, ma in America sarà sicuramente vietato ai minori per violenza, almeno tra le prime cose. Ci sarà tantissimo sangue in quel gioco e con Wolverine direi anche grazie, ma anche in questo gioco c'è un po' di violenza in più in confronto al primo Spider-Man, dove sì, qualche scena violenta c'era, ma anche del sangue, anche proprio scene possibilmente molto violente, ma solo accennate, solo coperte, diciamo, ombre, robe varie. Qui invece ci sono alcune scene proprio su schermo che si vedono e non me le sarei aspettate in questo modo. Sarà che abbiamo Venom, sarà che abbiamo appunto Kraven, ma molti colpi speciali, per capirci, triangolo, cerchio, sono anche violenti. Come ho detto, ho riscontrato dei bug, infatti è stato rivelato anche subito ieri, che è appena uscito il gioco, che le copie fisiche hanno riscontrato queste problematiche. Per esempio, per un po' ho giocato con un semplice quadrato, non con Spider-Man, oppure c'erano delle ripetizioni su delle texture, degli audio, dei dialoghi che si sono accavallati tra loro e non si capiva effettivamente nulla, oppure Spider-Man che si andava ad incastrare nelle fiamme, ecco. Di problemi ce ne sono tanti, credo che prossimamente arriverà una patch, per sistemare un po' il tutto. Poi, continuando, direi che il prologo di Marvel's Spider-Man 2, questo gioco inizia in un modo pazzesco, sia per le cinematiche che sono fantastiche, sono davvero realizzate bene, intanto quando appunto non c'è un bug che è, per esempio, il corpo di Peter simbionte che scompare, ecco, mi è capitato anche quello appunto, le cutscene sono davvero qualcosa di pazzesco. Tra le altre cose, visto che ho parlato del Peter venomizzato, ho apprezzato il cambiamento che il personaggio ha all'interno del gioco, perché è ovvio, come abbiamo già visto in Spider-Man 3, come abbiamo visto in... no, in Venom non lo abbiamo visto, perché, vabbè, quella è una cagata a parte, Peter a contatto con il simbionte cambia un po' il suo umore, diciamo, il suo carattere, e infatti anche in questo gioco c'è questa problematica, e vi giuro che non ho sopportato il Peter cattivo, tra virgolette, ed era questo l'obiettivo, perché era proprio antipatico all'interno del gioco, anche per i personaggi stessi. Ma i diversi combattimenti, anche i poteri del simbionte, sono veramente molto molto belli da giocare, soprattutto con il controller, il DualSense, il DualShock, probabilmente non ricordo quale dei due è quello della PS5, comunque da novellino della PS5, perché ce l'ho solo da qualche mese, è ancora fantastico avere in mano quel controller che trema ogni singola cosa, senti ogni singolo minimo passo sulle mani. Nel gioco torna anche Harry Osborn, che nel primo gioco non vedevamo in carne ed ossa, se non solo sul finale, con la scena post-credit, anche questo gioco ne ha due di post-credit, molto importanti per il futuro, ne parliamo dopo. E diciamo che Harry gioca un ruolo molto importante, sia prima quando effettivamente è a contatto con il Venom, perché sì, nella post-credit del primo gioco noi vediamo effettivamente Harry con Venom addosso, con il simbionte addosso, ma poi appunto passa a Peter e robe varie. Poi abbiamo Venom. Venom a tutti gli effetti. Fa un po' ridere il fatto che anche i poteri di Miles si chiamino Venom, quindi fortunatamente non hanno accavallato i due contesti, non hanno mai detto lui si chiama Venom e i miei poteri si chiamano Venom, perché sarebbe stato un po' strano, magari non si capivano anche all'interno i personaggi, quindi hanno voluto tralasciare questa cosa. E poi, visto che sono 20 ore di gioco, più o meno 18 ore di gioco massimo, non ricordo esattamente, però sono tante, a me è comunque volato. Nonostante io abbia perso tantissime volte contro Venom, contro Lizard, contro altri villain, contro il scontro finale appunto, devo dire che il gioco mi è volato senza problemi. È anche divertente, perché Spider-Man è anche divertente, è anche divertimento, è anche comicità. Le musiche servono solo ad alzare sempre di più l'epicità delle scene, abbiamo appunto i combattimenti ben realizzati, le meccaniche di combattimento stesse, ma anche nelle cinematiche. Il finale, secondo me, non arriva al livello del primo gioco, del finale del primo gioco, ma è davvero molto buono. Mi è comunque piaciuto davvero tanto, contando poi anche le post-credit, che da fan della Marvel, anche dei fumetti, possibilmente di cui conosce poco, soprattutto nel contesto Spider-Man, o contesto Spider-trattini, è davvero stupendo vedere e pensare a cosa potrebbe arrivare, cosa potrebbe riservare il futuro. In ogni caso, ragazzi, Marvel Spider-Man 2, super promosso, mi è piaciuto tantissimo, ora cercherò di completare al 100%, di platinare come ho fatto con Marvel Spider-Man due volte e con Miles Morales due altre volte. Questo credo che, almeno per quest'anno, lo platinerò solamente una volta, perché, avendo iniziato l'Accademia, ho molto, 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 molto meno tempo, ma, se non avete ancora giocato completamente la storia principale di Marvel Spider-Man 2, vi invito a lasciare il video di oggi, perché gli spoiler inizieranno fra poco. Io, intanto, vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta, in questo momento ci sono tutti i prodotti del sito al 20% di sconto, e gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlare dei villain. Nel gioco abbiamo, appunto, tantissimi villain, alcuni che tornano proprio come villain, alcuni che tornano come buoni, alcuni che muoiono, perché abbiamo sia Scorpion che Voltur, probabilmente anche gli altri, alcuni degli altri sinistri sei che sono stati uccisi da Kraven. Kraven qua, ovviamente, fa le sue cacce. Viene citata anche l'ultima caccia di Kraven tantissime volte, e questo l'ho apprezzato tantissimo da fan di quel fumetto. Poi abbiamo il ritorno di Tomston, che, se non sbaglio, compariva solo in uno dei DLC del primo gioco. Poi abbiamo anche il ritorno, anche se non al 100%, perché nel primo gioco non era comparso fisicamente, ma solo in un costume di Mysterio, che qui non torna come cattivo, proprio come Tomston, ma come proprietario di una giostra a Coney Island. Giostra che fa parte di una delle missioni secondarie, e vabbè, che finirò naturalmente prossimamente. Poi abbiamo anche il ritorno di Lee, di Mr. Negative, che qui torna come cattivo, poi supereroe, perché alla fine diventa buono, aiuta Miles, aiuta anche a fermare lo stesso Venom, con la creazione della tuta anti-Venom. Quella scena è stata pazzesca, mi è piaciuta tantissimo, sia il momento gioco, sia il momento cinematico. Poi abbiamo anche Lizard, che arriva per la prima volta qui. Il combattimento con Lizard, difficilissimo, sarà sempre, ripeto, perché sono io scarso a giocare, ma ci è voluto davvero tanto per sconfiggerlo. Mai quanto Venom, che non potevo dirlo naturalmente nella parte no spoiler, ma è lui quello, è nello scontro finale, è lui il vero villain principale, poi parliamo appunto, proprio in generale, di Venom. Vorrei riservare un piccolissimo spazio a Kraven, perché è un personaggio che mi è piaciuto molto. Intanto, fa paurissima. È un semplice umano, anche se potenziato, vabbè, è una montagna di muscoli, in ogni caso, ma mi ha fatto un casino paura, sia perché è riuscito a fare tanto, tanto, tanto danno nell'ecosistema di Spider-Man, ma anche perché, proprio a livello anche di interpretazione, non so adesso l'attore che hanno usato come motion capture per il suo volto, ma secondo me come Kraven è veramente fatto bene. E non credo assolutamente che Aaron Taylor-Johnson riuscirà a fare un Kraven di questo livello, anche perché quello non sarà sicuramente un villain, ma sarà un antieroe, che poi in realtà è un supereroe, proprio come Venom merda del Sony Spider-Man Universe. Inaspettatissimo poi, per chi naturalmente non aveva visto lo spoiler, cosa che io ho fatto sfortunatamente su TikTok, c'è anche la comparsa di Scream, che dovrebbe essere se non sbaglio una delle figlie di Venom, ma qui è un simbionte, una parte di Venom che si impossessa di MJ. Ed è un momento anche quello molto difficile da giocare, per me, e ho giocato la versione in amichevole se non sbaglio, quindi ragazzi, è un po' vergognoso da dire, sì effettivamente, però è comunque stato molto bello giocare. Torna anche Yuri con un costume, adesso non ricordo esattamente come si chiama il nome da supereroe, però effettivamente ora che ci penso almeno nella storia principale arriva solo in un momento e poi scompare totalmente del tutto. Penso che la rivedremo poi nella parte secondaria, ovviamente non posso parlare di questo, non posso parlare dell'esperienza totale di Marvel Spider-Man, solo della storia, il gioco principale, in ogni caso appunto. Adesso passiamo a Venom, perché si scopre, o meglio, era un po' prevedibile, per me no, perché io pensavo potesse essere Kraven in realtà quella montagna di muscoli di Venom, perché in ogni caso Harry aveva già contatto con il simbionte all'inizio, invece no, è proprio Harry. Harry che all'inizio si presenta come una sorta di agente Venom, comunque il costume sembra quello più o meno all'inizio, poi quando lo stesso Peter viene accoltellato da Kraven, il simbionte passa a lui, c'è tutto il problema lì con la sua, con il suo carattere, diventa un bastardo antipatico, viene odieto da tutti e fanno bene, perché è veramente antipatico in quella parte di gioco, anche se è potentissimo, infatti mi è piaciuto tantissimo giocare nei suoi panni, e poi appunto ripassa di nuovo ad Harry, che inizia ad essere un personaggio giocabile, si gioca come Venom per una buona parte di gioco, e non me lo sarei aspettato, devo dire, anche a livello di gameplay, lo stesso personaggio è molto ben realizzato, ci sono meno mosse, perché per esempio non può oscillare ovviamente Venom, ma è un po' una sorta di Hulk melmoso ed è stato carino giocare, non credo che daranno di nuovo la possibilità di farlo all'interno del gioco, nelle missioni secondarie, in teoria, fatto sta che mi è piaciuto massacrare qualche cacciatore qua e là come Venom, ma anche lo stesso Kraven, che dopo uno scontro con Peter Simbionte, ma anche proprio con Venom, sul finale perde la testa per questa storia, perché Venom fa quello che dovrebbe fare Venom anche al cinema, ovvero mangiare teste. La morte di Kraven mi è piaciuta molto e secondo me non sarà per nulla così appunto quello del Sony Spider-Man Universe, così pazzo, così volenteroso di morire contro qualcuno alla sua altezza, se non superiore. Alla fine l'obiettivo di questo Kraven è proprio questo, continuare a cacciare finché non ci sarà la sua ultima caccia che viene appunto citata guardando lo stesso Venom, che sarà quella in cui lui morirà contro uno più forte di lui. È arrivato Harry con Venom e gnam appunto. Venom fa un casino, non mi sarei aspettato tutta la città Venomizzata, c'è anche una piccola scena in cui tutto il mondo viene Venomizzato, non penso sia successo realmente, ma solo nella testa di Harry, perché salvano solo New York, sembra un po' strano, ma sì, non credo sia tutto il mondo pieno di simbionte. Ovviamente non l'ho citato ma lo scontro Peter-Miles mi è piaciuto molto e anche molto bello da giocare, questo è abbastanza facile, trattiene un po' di tempo diciamo di giocata. Era abbastanza sicuro che in quello scontro vincesse Miles perché Peter doveva pur liberarsi di Venom e poi passando al finale parlando sempre di Venom non mi sarei aspettato che lui facesse spuntare le ali che se non sbaglio sono nuove anche all'interno del fumetto o fanno parte di un altro universo non lo so se non sbaglio non è un tratto distintivo del Venom fumettistico sin dall'inizio e lo scontro finale appunto sia la parte con anti-Venom ecco tutta la parte mister negative spunta anti-Venom bellissima sia lo scontro di Peter contro Venom e Miles contro Venom sono davvero lunghi ho perso tantissime volte probabilmente mi sono tirato via un'ora solo per lo scontro finale però alla fine ce l'ho fatta e direi anche finalmente perché le ultime scene sono davvero molto belle non c'è più nulla dopo lo scontro non c'è più nulla da giocare c'è solo il finale appunto l'epilogo Peter decide di non essere più Spider-Man per un po' sicuramente tornerà ad essere Spider-Man non rimarrà Peter per sempre solo Peter per sempre però ha deciso un po' di vivere con MJ anche perché l'ha segnato molto lo scontro con Scream che ha detto effettivamente ciò che MJ provava solo con un po' più di cattiveria e con un po' più di sincerità alla fine i simbionti sentono tutto quello che le persone provano e lo dicono con più cattività con più cattiveria possibile però dicono la verità Miles diventa quindi l'unico Spider-Man di quartiere almeno per ora si mette anche lui con Hiley ovvero la ragazza non udente del suo gioco diciamo che si conosce lì c'è anche il riferimento della sciarpa sul finale Harry rimane in coma anche se in realtà stava già per morire dopo essersi liberato di Venom solo che Miles appunto ha fatto il dottore della situazione e l'ha rianimato e Norman se la prende tanto 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 con gli Spider-Man ora per quale motivo in realtà visto che l'hanno salvato loro l'hanno portato via loro dal dall'edificio che stava bruciando pensa che comunque l'hanno salvato loro invece no la cattiveria comunque del personaggio fa dire che loro gli hanno fatto qualcosa per me l'ultima scena in cui vediamo Norman all'interno del gioco non parlo delle post credit parla molto chiaro davvero chiaro Norman che si trova nella stanza di ospedale o comunque nella stanza in cui c'è Harry in coma prende il bastone del ragazzo inizia a rompere tutto in quella stanza Peter e MJ che erano lì escono e ragazzi in quella scena mi sembra ovvio pensare che chi ha scritto la scena stia letteralmente dicendo che sarà lui il prossimo villain di questa saga di Spider-Man un elemento più nascosto possibilmente è che ha una giacchetta verde e il personaggio non aveva mai indossato qualcosa di verde almeno in questo gioco non ricordo nel primo e poi chiama qualcuno mentre guarda Harry e dice preparate il siero G quella G sta naturalmente per Goblin secondo me è abbastanza ovvio che lui poi nel o nel nell'asso di tempo che passerà tra Marvel Spider-Man 2 e Marvel Spider-Man 3 si trasformerà in Goblin oppure vedremo la trasformazione nel prossimo gioco o non credo questo ma potrebbe anche essere rilegheranno il tutto in un DLC secondo me no sarebbe inutile fare fare tutto tutto ciò voglio Green Goblin all'interno di Marvel Spider-Man 3 che sicuramente sarà l'ultimo capitolo perché perché nella prima post credit abbiamo Norman sempre con una camicetta stavolta sotto la giacca verde quindi ritorna il verde e va a parlare con Otto che io ricordavo fosse morto nel primo gioco non lo gioco da tanto la storia dico invece no è a Raft e sta scrivendo qualcosa Norman chiede conferma sul fatto che lui conosca le identità dei due Spider-Man ed è così effettivamente almeno di Peter lui non dice non rivela per ora almeno le identità segrete però alla domanda cosa sta scrivendo lui dice l'ultimo capitolo è quello ovviamente in riferimento a Marvel Spider-Man 3 che sarà appunto il gioco che chiuderà la trilogia Marvel Spider-Man Miles Morales vediamolo come un DLC che hanno voluto buttare come gioco ufficiale solo per farci più soldi alla fine ma comunque poi quando arriverà il terzo lo chiameremo la trilogia di Marvel Spider-Man sicuramente poi con Wolverine se il gioco andrà bene quanto Spider-Man faranno anche più capitoli me lo aspetto magari arriveranno anche altri giochi sul mondo Marvel non solo Spider-Man e Wolverine però passiamo alla seconda post-credit qui vediamo Miles e Daily che amoreggiano per la prima volta diventano appunto fidanzati comunque in questo in questa post-credit però però abbiamo un'altra cosa un'altro un'altra aggiunta diciamo al possibile Marvel Spider-Man 3 no possibile Marvel Spider-Man 3 ma una possibile aggiunta a Marvel Spider-Man 3 che è sicuro ovvero per tutto il gioco Rio Morales la mamma di Miles cita questo ragazzo questo uomo in realtà che ha conosciuto in giro con vari appuntamenti e che le piace davvero solo sul finale sulla post-credit sulla seconda post-credit si rivela chi è quest'uomo io dopo che si sente solo il il toc toc e la porta si apre lentamente mi aspettavo la rivelazione dell'anno ed è solo Albert ecco Albert un uomo asiatico sulla cinquantina sembrerebbe che però ha portato con sé sua figlia Cindy chi è Cindy? beh è l'identità segreta di Silk un'altra Spider-Persona che credo non lasceranno da parte nel prossimo capitolo o in un possibile DLC non so se è già stata morsa sembra essere più o meno della stessa età di Miles quando invece dovrebbe avere più o meno le età di Peter perché sono stati morsi dallo stesso ragno sicuramente però non sarà così perché poi Silk ha un ruolo tutto diverso nei fumetti quindi cambieranno la sua storia di origini 100% perché è lì in quel momento quando in realtà ha tutto un altro ruolo viene tenuta prigioniera fino al momento in cui si scopre l'identità all'interno dei fumetti quindi sicuramente non sarà lo stesso personaggio al 100% probabilmente non diventerà nemmeno Silk ma non credo non presenterebbero Cindy Moon a vuoto c'è solo da vedere se manterranno la faccenda di Peter e Silk non credo sinceramente non credo però da vedere per chi non lo sapesse siccome sono stati morsi dallo stesso ragno i loro ormoni sono un po' in subuglio quando stanno vicini e iniziano a fare roba ovunque si trovino ecco probabilmente non sarà lo stesso ragno ad averli morsi per levarsi questa parte fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi del gioco in generale della storia di cosa potremmo vedere in Spider-Man 3 in Marvel Spider-Man 3 vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta in questo momento ci sono gli sconti quindi affrettatevi approfittatene e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao